Ma che stagione è stata questa? Che stagione, che doppio stagione, veramente abbiamo vissuto un stagione speciale, emozionante. Un club come Milan, così grande, con tifosi in tutta parte del mondo. C'è un senso di unità che mi dà orgoglio e che dà il club una forza pazzesca. Vediamo qualche immagine. Partiamo dalla fine. Ok. Che momento. Fuori da testa. Che emozioni. Siamo in Champions. Noi soffriamo come tutti voi. Questa era la culminazione di un lavoro difficile, duro, lungo. Noi alla fine l'abbiamo fatto e c'è, lo meritiamo. Veramente. Non solamente cosa abbiamo fatto, ma anche per me è importante, molto importante, come l'abbiamo fatto. Questo per me era una vittoria meritata per tutti i nostri tifosi. Questa squadra, nei momenti delicati della stagione, ha sempre avuto un'anima. Sì, è vero. Questo gruppo è speciale. È un gruppo giovane, è vero. Ma un gruppo con mentalità pazzesca. Un gruppo con una forza dentro di loro. Un gruppo che ha voglia, voglia per vincere, per questo club. Questa squadra ha sempre avuto un risposto. Sempre. E questo è un'evidenza di una mentalità, di un modo di gioco. Anche perché il sistema di gioco anche è importante per dare fiducia. E questo gruppo è fortissimo. Questo è incredibile. Veramente. Franca è freddo. In questi momenti Franca è incredibile. I tifosi sono sempre stati con la squadra quest'anno? Non ho parole per questi tifosi. Per due anni abbiamo vissuto insieme un periodo difficile nel mondo. Ma ogni momento, ogni momento abbiamo sentito il loro supporto. E questa immagine per me significa un club in cui siamo veramente insieme. Con questa attitudine tutto è possibile per questo club. Tutto, tutto, tutto è possibile. Questo percorso è difficile. Serve tempo anche. Noi siamo solamente all'inizio. Sì, è amore. E le guerriere? Per me questo è un momento fantastico. Perché anche le nostre ragazze e staff hanno fatto una stagione fantastico è necessario continuare così perché la prossima stagione saremo in in champions anche per le ragazze vogliamo continuare il nostro percorso non ho parole per questa squadra fantastica quando vedo valentina è un forza di natura sempre sempre con 120 per cento in ogni azione in ogni ogni momento del partito questo è un esempio non solamente nel calcio femminile ma nel nel calcio maschile anche per tutti il club soprattutto a ivan è la cosa più importante sì sì questa è la cosa più importante il club è soprattutto e sopra i nostri interessi individuali è necessario avere un spirito di unità un spirito sempre per il club anche stefano pioli te lo ha dimostrato per me stefano è un grande esempio stefano ha vissuto un periodo in cui aveva grande pressione ma sempre 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 stefano ha pensato solamente del club stefano ha un qualità può fare le cose complicate le cose difficili semplici è un uomo molto profondo mi ha sorpreso con la passione e la forza la fiducia nel gruppo la vicinanza con ogni giocatore il rispetto con ogni giocatore queste cose non sono semplici ma ma stefano ce l'ha noi abbiamo un gruppo forte con giocatori forte così è possibile avere successo è un equilibrio delicato non è semplice serve giocatori di qualità abbiamo un team fuori del campo molto moderno che sta facendo lavoro fantastico paolo maldini come un punto di riferimento e paolo è anche non solamente un punto di riferimento tecnico ma anche quando noi pensiamo di valori del club questo è anche importante credo che adesso i nostri tifosi vedino una squadra che in cui loro possono avere fiducia si dice il milan non protesta mai il milan non pesa in realtà no abbiamo peso abbiamo un presidente come paolo scaroni fortissimo fortissimo e con credibilità e influenza assolutamente abbiamo una persona come paolo maldini che ha influenza questo milan è presente questo milan quando noi parliamo a forza qual è il tuo calcio un calcio verticale sono un amante di calcio il calcio sta sempre cambiando per me non è una sistema di gioco ma è un attitudine il calcio moderno è più uno contro uno questo è molto importante è un calcio in cui la transizione sono molto importante questi cinque secondi sono molto importanti è un calcio in cui la velocità forza anche molto importante e alla fine certo anche livello tecnico mi viene in mente un nostro giocatore che si chiama ficto mori che rappresenta mi sembra tutto questo per un attaccante si che è un incubo perché niente è facile niente è facile niente è facile con ficto non è possibile batterlo con con velocità non è possibile con forza ficto ma non solo ficto no infatti questa attitudine questa mentalità è ovunque nella squadra anche queste qualità come giocatori abbiamo velocità abbiamo forza abbiamo giocatori moderni noi vogliamo giocatori con le qualità che ho descritto per crescere dentro e con nostro club è vero che milan is back nel champions league e questo è un passo importante veramente mauro questo mi da brividi voglio dire grazie ai nostri tifosi perché questo supporto è un grande ragione per la nostra crescita il mio grande speranza è che nel futuro sarò considerato solamente un tifoso del milan come come loro con loro forza milan sempre perché il nostro corso gratuito è un'altra parte per la nostra crescita è un'altra parte di